Ciao a tutti, oggi un video on the run, un video in auto perché voglio fare qualcosa di diverso per celebrare la prise della Bastille e anche il compleanno del canale. Oggi sono sei anni e la mia creatura va a scuola, si approccia al mondo scolastico e questa cosa un po' mi turba perché oggi il mondo della scuola non è esattamente un bel mondo tra propaganda, tra agende, tra robe varie che vanno e più che vengono vanno e basta. Spero che la mia creatura si riesca a districare da questa cosa. Voglio sottolineare anche che ovviamente nulla di quello che dico ha a che fare direttamente con i contenuti del canale perché io semplicemente l'ho partorito però poi il resto non l'ho fatto certo io. Posso aiutare, posso comparire, posso dare una mano, un aiuto però ecco non è che proprio ci sono in termini attivi. Quindi le mie idee sono mie idee, non sono idee di chi poi fa i video sul canale. Ok? Quindi se oggi sentirete parole che magari non avete voglia di sentire o che non vi piacciono o riflessioni di qualsiasi tipo o che magari non condividete, amen, pace, mi dispiace per voi sono mie idee e quindi le esprimo così. Siamo ancora liberi, credo, è giusto che le esprimiamo. Non è un mondo facile figlio mio. Guarda cosa è successo ieri o meglio stanotte per noi per loro. Guarda cosa avviene continuamente sui social. Guarda tutte le persone che vengono bloccate, censurate, stoppate, zittite. È una vergogna. Stiamo vivendo tempi e momenti che sono allucinanti. Non era questo il mondo che volevo dare a mio figlio e agli altri figli ovviamente. Non è questo assolutamente il tempo che io ho sperato di far loro trovare dopo aver faticato una vita per metterli al mondo. Tutti, canale compreso, anche se poi non è mio. Quindi, anche se non condividete la mia battaglia, che io porto avanti in altri lead, su altri social e per altre vie, cercate di capire che forse il mondo se resta libero va bene anche a voi. Che ne dite? Vorrei fare i miei più grandi auguri a questo canale perché l'ho visto crescere, nascere, crescere e ora è diventato abbastanza grande da aprire le porte della scuola. Mi raccomando, se lo trovate in classe, non lo bullizzate, non lo trattate male. Fate in modo che la lezione sia una lezione decente, con insegnanti decenti e che non sia diffusione di storytelling, di propaganda. Perché ci tengo. Lui non si mischierà mai con queste cose, ne sono assolutamente certa. Ma non fatelo niente voi. Un saluto a tutti. Happy Birthday.